Ciao a tutti ragazzi qui ForteGamer che parla, benvenuti in un video su Fortnite Oggi ragazzi l'avete detto dal titolo, si è davvero successo Quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine Perché ne vale la pena ragazzi la che finale è qualcosa di assolutamente epico Poi iscrivetevi al canale se non siete iscritti Poi se volete seguitemi su Instagram, link in descrizione Basta cercare su Instagram, ForteGamer mi trovate sicuramente Raga, beccatevi questa partita delirante Ok ragazzi ci siamo, siamo a passatempi pomposi ragazzi Vedo che già si è buttato un bel po' di gente Vabbè perché si sanno sicuramente fare un land migliore del mio Vediamo un po' come ce la cambiamo oggi ragazzi Siamo anche in controller cam Quindi insomma abbiamo cambiato un po' di cosucce Non siamo a pinnacolo e siamo in controller cam Vediamo un po' comunque ragazzi come va sta cosa Io credo molto male perché non vedo armi No 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 ragazzi no 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 proprio no, proprio no Mi serve un'arma, mi serve assolutamente un'arma A parte che sto un po' lagghicchiando che cosa simpatica Arma ce l'ho Oh 100 di ping ragazzi Non proprio una bellissima cosa Ora 50, questo si è trovato un'arma Ma è un casino E ti pareva che non aveva trovato un'arma A sto tipo Allora mi devo sparare tutto subito Non aspetto di certo di farmi ammazzare Dai rientra Entra No no ragazzi No 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 Questa cosa non sa da fare Qua ti siamo Eh però vieni vieni Mi viene aiutato il tipo vai Ah io ho fatto solo 27 di danno Ok Posso così Questo lo levo Lui che aveva Non lo dica Fatemi sfondare qua che sta la cesta Ah già ragazzi Mamma mia Fortuna proprio questa Però non me la voglio fare ancora Aspetto un altro po' Eeeh ci aveva la doppietta Mamma mia Questo mi stava mirando Mi sono visto morto comunque Mi stava mirando proprio bene bene Per farmi la 18 azzeccarmi a terra easy Anche se detto tra di noi ragazzi non so bene Le posizioni dei kart Gli spawn a passatempo Quindi mi sa che sono costretto ad andare nella zona corrotta A prendermi Una pietra per diventare fantasma E andare in una zona più popolata Perché io non so assolutamente dove trovare Allo sto kart Forse lì Forse c'è un quad Non lo so ragazzi Comunque divento spettro e amen Lì sta un loot Però credo di una persona Ah ok No lì c'è un nemico Ok 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 Sta anche un quad Però lì ci sono forse due nemici Probabilmente sì Uno sta per fightare con quello dentro al fortino Ah se solo riuscissi a farmeli in fretta io Vedete se riesco a intomettermi E te pareva C'ho solo aiutato Potevo stare 5 kill ora 6 con questo cura mi farò Perché A prescindere questo dizio Ora me lo devo assiccare a terra Ah dai Fra Perché Ok Easy boy No cosa sto facendo Ok Ho rischiato di morire Proprio in questo frangente Però Peccato Mi sono fatto rubare proprio una kill da davanti agli occhi Uh problema No 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 Non ho capito dove sta raga Sincero proprio Ah Ok Quello è un problema Ah ma tu sei white Vabbè bastava dirlo che eri white Bastava dirlo che eri white Bro Io faccio una cosa proprio easy Proprio veloce faccio Bastava dirlo che eri white Wow Via via Muoviti Si stanno fightando due tipi Per quando sparate tutti e due me Eh tanto mica potete spararvi tra di voi Cioè Figuratevi Ah ci sono tre cecchini E uno ce l'ho dietro Ok Forse ci sono cinque persone in tutto ragazzi Si ci sono cinque persone in tutto E questo me lo faccio io Oh quanto ho goduto a non farmelo Porca miseria Ragazzi c'erano cinque tipi Non me ne sono fatto mezzo Dai No 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 Grazie a tutti Fra tra 20 secondi parte la safe Ma perché dobbiamo morirci entrambi Perché Dai ti prego Non iniziare a costruire ti prego Ti prego dobbiamo andarcene entrambi Ti prego fra dai 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 Dimmi che ti ho fatto male Non, 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 non Non, non, non Se l'ho eliminato un cecchino E ti pareva se non se l'eliminava un cecchino Cristo santo Fra ti hanno sfondato un albero di fianco Sveglia Fra ti hanno sfondato un albero di fianco Ok, se ne ho accorto Grazie a tutti Grazie a tutti Vi rendete conto di ciò che è successo e come sono dovuto evadere da quella situazione No, dico Ok No, dico Dico No, dico No, dico Grazie a tutti Scusate il silenzio ragazzi ma è un'orrenda situazione O meglio orrenda A parte che tra poco credo che si scarichi la telecamera ragazzi Quindi scusate se tra poco non vedrete più la controller cam Devo fare così Via Se mai sono fatto più danno Facendomi il medikit Perché sono rimasto più tempo dentro Dentro la tempesta Aspettate No 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 Ho un problema Ok Chiudilo Assolutamente Aspettate 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 Ma col piccone Col piccone raga L'ho preso per il baglio col piccone Seri Che è il finale col piccone Quindi ragazzi il video oggi si conclude qui Come avete visto davvero un peccato non averla registrata con la controller cam però ragazzi si era scaricata la batteria Però è stata comunque ignorantissima come partita E anche molto interessante verso la fine Come al solito vi invito a iscrivervi al canale se non siete già iscritti Poi se volete seguirmi su Instagram Link in descrizione Basta cercare su Instagram Porto di Game Non lo trovate sicuramente E noi ci becchiamo alla prossima Ciao Ciao